Non è il momento di fuggire davanti all'attuale crisi verticale senza portare quella luce necessaria per orientarsi anche in quei luoghi nel bosco dove la vegetazione si fa più fitta o i sentieri si interrompono improvvisamente. Non è cioè il momento di retrocedere di fronte ai mali del mondo, anzi è proprio in questo momento che ci si deve fare forza e combattere portando la luce nel mondo per condividerla con gli altri fratelli e sorelle.